Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata del rifugiato per commemorare l'approvazione datata a 1951 della Convenzione di Ginevra da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che aveva lo scopo appunto di accendere i riflettori sullo status dei rifugiati. Venne celebrata la prima volta nel 2001, dunque nel cinquantesimo anniversario della Convenzione con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche che coinvolgono decine di milioni di persone, di rifugiati e di richiedenti asilo. Un numero in costante crescita si calcola che una persona ogni 110 sia costretta alla fuga. Da qui la petizione hashtag with refugees voluta dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite che quest'anno celebra la forza, il coraggio e la perseveranza dei rifugiati propone di postare foto con messaggi di benvenuto e soprattutto di favorire, di moltiplicare le occasioni di incontro deviso per condividere le esperienze dei rifugiati. Una consapevolezza per contrastare invece quegli slogan di senso opposto che spopolano soprattutto sul mondo del web.